Deve esserci qualcosa dopo. Chi ha le mani alzate le abbassi. Andremo tutti a casa ora. Negan è vivo. Ma il suo modo di fare le cose è finito. E chiunque non possa accettarlo ne pagherà il prezzo, ve lo posso assicurare. E per chiunque qui voglia vivere in pace, con giustizia. E trovare un punto d'incontro. Questo mondo è vostro, di diritto. Noi siamo la vita. Quella è la morte. Deverrà prenderci. Se non resteremo uniti. Quindi andate a casa. Poi il lavoro comincerà. Il nuovo mondo comincerà. Tutto questo... Tutto questo è solo il passato. Deve esserci qualcosa dopo. Il nuovo mondo comincerà. Il nuovo mondo comincerà. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti